L'arrivo in solitaria con il cronometro fermato sotto i 30 minuti. Immagini del successo per distacco di Pasquale Selvarolo del gruppo sportivo Fiamme Azzurre nella 24esima edizione delle Diomediade. Memorial Peppuccio, Materrese e Franco Forina, gara podistica su un percorso di 10 km andata in scena sulle strade di Canosa di Puglia. Il runner Andriese ha tagliato il traguardo in 29 primi e 30 secondi staccando di 3 minuti e mezzo Daniel David della nuova Atletica La Terza e Giovanni Rizzi dell'Atletica Pro Canosa. Proprio la società di casa, organizzatrice di questo secondo appuntamento del Corri Puglia 2023, si è imposta nella classifica a squadre davanti alla Bitonto Sportiva e alla Tommaso Assi di Trani. In campo femminile, a primeggiare è stata Raffaella Filannino della società sportiva Downia Running davanti a Marisa Russo della Marathon Massafra ed Alto Mare Paradiso della Tommaso Assi di Trani. Prima della gara, alla quale hanno partecipato 700 atleti, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Forina.